bello ragazzi dal vostro bomber gm jfr in 93 benvenuti nuovamente sul canale allora oggi siamo in versione in poltronati benissimo siamo sulla poltrona possiamo dire allora argomento di oggi come dal titolo non dobbiamo continuare a sottolinearlo miei cari che figura di merda allora blog o blog non so com'è in zero il titolo vediamo allora ultimamente sto prendendo il vizio di parlare verso di voi verso i miei iscritti chi visita il canale per la prima volta chi nota il mio canale e cose eccetera ragazzi allora dopo aver iniziato il progetto su su second live benissimo allora volevo fare altri due progetti sul mio canale oppure anche un terzo a parte quello della sponsorizzazione possiamo dire consiglieri canali anzi consigliere dei canali su youtube e tali poi quello delle recensioni sui vari giochi test 4 playstation re xbox 360 pc wii u poi magari farò altre due tre video dove vi presenterò tutte le mie console me ne manca qualcuna però speriamo di riuscire a riceverle dai a prenderle in zona ragazzi che cosa vi piace di più sul mio canale game play world 2 let's play si naturalmente poi faremo anche un video dove andremo a studiare le differenze di queste tre tavoline che possono essere molto importanti sul canale youtube su qualsiasi canale miei cari benissimo allora stavo si sto dicendo insomma ricordami ricordami un attimo no il sub for sub dai ma che cavolo dice ok bene vi piace quest'idea di si ok bene ragazzi vi piace l'idea di guardare un blogger che parla delle varie cose che accadono nel mondo dei video game insomma possiamo giudicare fifa 16 quando uscirà ad esempio parliamo della console playstation 4 i pro e i console di questa console andremo a commentare le i3 2015 ad esempio insomma fare i blogger commentare fare dei blog in giro in auto questa idea mi piace particolarmente esprimere il mio pensiero su youtube e sentire la vostra con i vostri commenti sempre se non vi spaventate a scrivere sotto il video a lasciare dislike e si come quando ti lascio il mio dono per natale come papa per natale benissimo miei cari amici io ho deciso di intraprendere questo cammino su youtube con l'idea di divertirmi e farvi divertire insomma fare un sorriso a tutti coloro che mi seguono giusto? no non posso ricevere una risposta in quanto i commenti sono disabilitati da voi stessi e quindi non posso sapere la vostra sui miei video almeno dite no fa cagare cambia format fai minecraft su let's play o let's play sul gioco di Sherlock Holmes fai una road to the vision 1 superfa 15 beh ragazzi avete qualche idea io ce li ho però qualcosa di innovativo adesso ho una settimana di vacanza lo sto ripetendo un bel po' di volte perché sto registrando i vari video nel giro dei due o tre giorni ok ragazzi dopo che ritornerò dalla vacanza spero che potrò iniziare la mia serie ufficiale su fifa 15 e minecraft per te e qualche video cazzeggio su GTA ehm no a stessi ingredienti potremmo farlo ragazzi che mi consigliate? consigliate un qualche gioco super figo o faigo da fare sul canale e ditemi cosa ne pensate dell'altro percorso che ho deciso di iniziare in questi giorni vlogger faremo dei vlog parleremo sull'informatica windows 10 anche se sono una si insomma una tartaruga nello specifico si di parlare informatica perché non danno me la capo bene benissimo ragazzi ditemi la vostra cosa ne pensate vlogger mi raccomando anzi miei cari bombers ditemi nei commenti cosa ne pensate ve lo ripeto almeno un miliardo di volte così io che dai vostri consigli possa eseguire i migliori video per farvi divertire benissimo dal vostro bomber jimmy jf1 under 3 bella ragazzi ci becchiamo al prossimo video ciao